Prego consigliere Colaci. Intanto buonasera a tutti di nuovo. Vorrei cominciare l'intervento in questo modo. A me spiace molto che questa sera non sia presente il commissario straordinario di governo perché è la persona che poteva ovviamente spiegare a tutti quella che è l'intendimento del governo e via discorrendo e le istituzioni in tutti questi anni ci hanno lasciato completamente da soli. Quindi è gravissimo, è gravissimo perché è il suo ruolo che una persona come il commissario di governo non sia oggi qui con noi. E questo è una cosa che non è tollerabile. Perché noi la faccia non ce la mettiamo più. Chi in buona fede pensava tanti anni fa... Io mi ricordo, io sono in consiglio comunale purtroppo dal 2002 e dal 2002 ho cominciato a ricevere i quaderni dove si, come dire, prospettavano tantissime soluzioni. Però ovviamente le decisioni venivano portate dall'esterno e in consiglio comunale che rimaneva. I poveri consiglieri comunali che ovviamente si trovavano o il sindaco, gli assessori che si trovavano a gestire una situazione di questo genere. Non è più tollerabile. Cioè chi vuole spiegare la bontà di una situazione, di un'opera, deve venire sul territorio e convincere gli abitati sui territori. Perché altrimenti diventa complicato. Diventa complicato perché ovviamente alcune soluzioni che io ho sentito prima... Ho sentito le piste ciclabili. Cioè non è che con le piste ciclabili si vada a alleviare quello che è il disagio. Ho sentito la SFM5, forse hanno sbagliato a fischiare, però è difficile non fischiare quando si rinvio nei lavori per sette anni. Cioè capite? È proprio difficile, è difficile credere a queste soluzioni. Perché poi quando si prospetta un'opera, per quello che interessa a qualcuno si va sempre avanti. Per quello che interessa ai cittadini non si fa più nulla. La SFM5 doveva già essere funzionante e allora forse qui si sarebbe potuto dire tutto quello che lei avrebbe voluto dire. Ma la SFM5 purtroppo non c'è, non è stato ancora messo un mattone. Di quest'opera, io voglio fare un intervento brevissimo, sarò brevissimo così poi possiamo ascoltare gli interventi ed è pubblico. Di quest'opera ne sento parlare purtroppo dal 2002 da consigliere comunale e un po' prima da quando è stata, diciamo, messa in cantiere. Usiamo questo termine che non è tanto, come dire, bello in questione, però è messa in cantiere. Quindi se ne parla dal 1990 forse, non mi ricordo bene. E vi confesso che fino a qualche tempo fa, ma anche io ero favorevole, anche io ero, come dire, disposto a trovare le soluzioni. Oggi è difficile anche per me, è difficile perché alle parole non sono corrisposte delle azioni, ovvero sia si è utilizzato un sistema di progettazione per utilizzare soldi, eccetera, però non si è, come dire, costruito un progetto serio, non si è costruito, come dire, un'idea, anche nel rispetto dei tempi. Avete detto prima è la Francia, si parla che è il 2004, ma io mi chiedo, ma se è un'opera così importante, ma come mai ci mettiamo 60 anni per definirla? Cioè questa è una cosa che, come dire, mi fa un po' pensare. E allora dico, in questo momento, in questo momento dobbiamo ovviamente tener conto, poi è la situazione, di percorsi di quest'opera. Io non parlo della Torino-Lione, io parlo del percorso, come parlo, trasnazionale, trasnazionale. Allora dico, ma vi siete accorti che il contesto geopolitico è cambiato almeno sette volte da quando se ne parla? una volta era da una parte, quindi il problema diventa a questo punto capire e capire dove si vuole arrivare. E francamente io non ce l'ho ancora questa idea, quindi mi spiace dirlo. La faccia personalmente non ce la metteremo più, non avremo nessuna opinione, se non un'opinione molto precisa, che è quella che dal mio piccolo, finché fa tre anni saremo, mi pare che duri tre anni questa legislatura, quindi il concetto sarà provare a capire che questo è il territorio che sarà più devastato dall'opera. E quindi il ruolo nostro, di tutti, al di là forse anche di come la si pensi, è quello di tutelare, sì, sindaco, l'aspetto istituzionale, ma soprattutto l'interesse dei nostri cittadini, perché sono quelli che avranno le problematiche più ampie nella gestione di questa cosa. E come dire, ne vado a raccontare qualcuna, ma sicuramente tutti voi ne saprete più di me dei disagi. E cioè, come siete detto, il cantiere più grande e devastante di tutta l'opera, l'impatto sugli ospedali, perché, scusate, mi ero dimenticato perché, voglio dire, ho cominciato intorno al 2019 a avere qualche perplessità, perché nel 2019 purtroppo ho dovuto affrontare per questioni professionali la questione del Covid. E mi sono accorto, ci siamo tutti accorti, che per la sanità alcune risorse non venerano, ma invece per un'opera che non si sa ancora oggi, se parte, c'è miliardi a go-go. E questo non poteva essere funzionante, cioè non poteva essere utile, non poteva essere fatto nell'interesse della collettività. E dicevamo, impatto sugli ospedali, qui abbiamo il San Luigi, la casa di riposo bianca della Valle, problema di qualità dell'aria, viabilità, movimentazione di scavi e cementi, impatto sulla viabilità. La viabilità, guardate, la viabilità è un problema serio, perché adesso è stato detto che forse, l'ingegnere mi consenta, come dire, il mio dubbio, partirà la SFM5 e non sapremo quando ovviamente funzionerà. Ma non bisogna essere il mago telma per capire che nel momento e se partirà la SFM5, noi ci troveremo la strada sul San Luigi e tutto il circondario ed è centro, tutto è bloccato, perché non sono state fatte politiche serie sui trasporti. E questo è un dato, vedrete che sarà così. I danni abbiamo visto sulle falde acquifere, abbattimento di alcune case, poi ho letto prima il deperimento e il valore, ovviamente, del patrimonio immobiliare, perché poi la cosa che mi ha dato fastidio, in alcuni casi, due o tre persone che mi hanno telefonato, anche un mio amico è di vecchia data, che per non rimborsare le indennità a qualcuno è stato spostato il tracciato di 20 centimetri in maniera che non si potesse poi dare un risarcimento ad alcune persone. E questo, capite, è ancora un problema che non può funzionare. E poi come si può tutelare il patrimonio storico-artistico? Queste sono tutte battaglie che noi dobbiamo chiaramente avere bene in mente, ma nell'interesse della nostra città. E quindi, su questo, al di là delle polemiche, penso che ci dovremo raccogliere tutti per raggiungere l'obiettivo a tutela della nostra città. Grazie. Grazie consigliere Colaci. Grazie. Grazie. Grazie.